Ciao a tutti, oggi iniziamo il quarto libro. È finalmente arrivato il tanto atteso quarto libro. Teorie e concetti metafisici sconosciute continuano ad essere esplorate mentre vengono presentate nuove idee che sfidano modi tradizionali di pensare. Questi libri sono scritti per coloro che vogliono che la propria mente sia strizzata come un pretzel, aprendosi a nuovi modi di vedere il nostro mondo e la nostra realtà. Il lettore è immediatamente in grado di creare una nuova consapevolezza che di questi tempi è disperatamente necessaria. Ulteriori informazioni riguardo al piano dello spirito dove andiamo dopo la morte, la revisione della vita, preparare dei contratti e il piano per la vostra vita per ciò che sperate di ottenere al vostro ritorno sulla terra. Vivere tutte le vostre vite passate, presenti, future, simultaneamente. Cambiare il DNA, il colore del DNA. La diminuzione del velo tra le altre dimensioni che ci permetterà di vedere e migliorare la manifestazione delle nostre capacità psichiche. L'attivazione di una nuova potente energia da usare in questo periodo di trasformazione. La raccolta di tutti i frammenti dell'anima. Il concetto insolito delle persone di sfondo e molto molto altro. Andremo a vedere in questa nuova avventura. Pronti? Ok, allora partiamo con la dichiarazione. L'autore di questo libro non dispensa consigli medici né prescrive l'uso di alcuna tecnica come forma di trattamento per problemi fisici o medici. Le informazioni mediche incluse in questo libro sono state prese dalle consultanze individuali e sessioni private di Dolores Cannon con i suoi clienti. Non sono destinate a diagnosi medica di alcun genere né per sostituire la consulenza medica o i trattamenti del vostro dottore. Quindi l'autore e l'editore non si assumono alcuna responsabilità per eventuale interpretazione di un individuo o per come vengono utilizzate le informazioni quei riportate. Ogni sforzo è stato fatto per proteggere l'identità e la privacy dei clienti coinvolti in queste sessioni. La locazione dove le sedute si sono svolte è corretta, ma solo nomi propri di persone sono state utilizzate e questi sono stati cambiati. Andiamo a vedere la prefazione. Un benvenuto a tutti, benvenuti, i nuovi lettori di questa serie bentornati. Gli altri che hanno seguito le mie avventure di ipnoterapia degli anni passati. Quando ho iniziato l'universo convoluto libro 1, erroneamente credevo che sarebbe stato un libro solo. Stavo lavorando sulle informazioni che divennero del custodians, il libro I custodi, 25 anni di investigazione sugli UFO e le abduzioni. Avevo raccolto una grande quantità di informazioni e pensavo di aver descritto praticamente qualsiasi cosa ci sia da parte a proposito del fenomeno. Poi le informazioni iniziarono a prendere una strana piega. Si stavano spostando tutto agli extraterrestri verso concetti metafisici e teorie che non avevo mai sentito prima. A quel punto sapevo che avrei dovuto finire quel libro e iniziare un altro. Non sapevo come sarebbe stato accettato perché era un allontanamento dei miei soliti scritti relativi all'ipnosi e la ricerca di conoscenze perdute. Anche se pure questa viene considerata conoscenza perduta, stavo andando in una diversa direzione. Ho descritto il primo libro come un libro che aveva lo scopo di piegare la mente come un brezzel. Pensavo che avrebbe raccolto un certo interesse per coloro che hanno seguito e letto i miei libri degli ultimi trent'anni e che sarebbero stati in grado di vedere la mia evoluzione in questo campo. Tuttavia sono rimasta piacevolmente sorpresa quando ho scoperto che il primo libro di questa serie veniva letto anche da individui che non avevano mai letto nessuno dei miei lavori. Non sapevo se la gente sarebbe stata in grado di comprendere se avessero iniziato direttamente con questi libri. Suggerivo sempre di iniziare con i miei primi libri e risalire gradualmente. Ma ho iniziato a ricevere posta che suggeriva che i lettori fossero più ricettivi di quanto non avessi immaginato. Alcuni mi scrisero «Posso non aver capito, ma sicuramente mi dà qualcosa a cui pensare». Questa era la mia intenzione. Nei libri dico sempre di trattare i contenuti come caramelle per la mente. Nuovi concetti e teorie da esplorare e contemplare e poi metterle da parte così che il lettore possa continuare la sua vita. Sono un interessante passatempo o detour della norma. Mentre stavo preparando l'universo convoluto per la pubblicazione, improvvisamente decisi di aggiungere Libro 1 al titolo. In quel momento non avevo alcuna certezza della potenziale creazione di un altro libro in quella serie. Pensavo di aver scritto qualsiasi cosa possibile, immaginabile, nel primo libro. Ma un'intuizione mi ha detto di chiamarlo Libro 1. Avrei dovuto saperlo che loro erano dietro a questa intuizione. Loro sapevano che avevo appena sfiorato la superficie e che adesso mi stavo imbarcando per questo nuovo viaggio. Ci sarebbero state tonnellate di nuove informazioni da condividere. E fu così. Ogni libro in questa serie ha introdotto concetti sempre più strani e nuovi a cui la gente avrebbe pensato. Alla fine di Universo convoluto Libro 3 ero sicura che mi avessero dato ogni concetto possibile, che non c'era nient'altro da imparare e a cui esporsi. Mi avevano detto ogni cosa. Ma mentre stavo completando il libro, ci fu un'ultima seduta a Montreal, in cui mi presentarono un altro concetto, strizza meningi. Alla fine di quel capitolo dissi, adesso so che non c'è nient'altro da scoprire. E loro mi risposero nella loro infinita saggezza. Oh no! C'è altro! C'è altro! E con quella risposta riuscì a completare quel libro da 700 pagine e pubblicarlo. A quel punto mi permisero di riposare per qualche mese, mentre il libro era in produzione. Tutte le mie sedute d'imnosi erano normali, solo semplici terapie per aiutare la gente con i loro problemi fisici e personali. Poi le informazioni iniziarono ad arrivare ancora una volta e io sapevo che ci sarebbe stato un quarto libro. Quando intitolai il primo libro, libro 1, risi perché pensavo al massimo ci sarà un altro. Adesso non ho un'idea di quanti ce ne saranno. Mi limito a continuare a scrivere e loro continuano ad espormi a nuove informazioni. Mentre sto raccogliendo il materiale di questo libro, mi rendo conto di avere abbastanza contenuti per tre sezioni di diversi argomenti. Quindi il viaggio continuo. Per coloro che si uniscono a noi per la prima volta, benvenuti in questa avventura e viaggio. Per coloro che hanno fatto parte dell'intero viaggio, bentornati. Spero che troverete altri concetti interessanti mentre continuiamo l'avventura. Quindi leggete con una mente aperta e preparate a strizzare i vostri neuroni. Ancora un po'. Dopotutto i pretzel hanno una forma interessante. Sembrano davvero il simbolo dell'infinito. Non è vero? Allora, qui finisce la prefazione dell'autrice. Andiamo a vedere il primo capitolo. Prima di andare a vedere la prima parte, che si intitola Oltre al velo, volevo pensare a voce alta. Speriamo di trovare il quinto libro, che c'è già, ma è solo in inglese. Speriamo di trovarlo in italiano prima che finiamo questo quarto libro. Andiamo a vedere il primo capitolo. Capitolo 1. Le mie vite passate Quando offro un seminario, invariabilmente mi fanno le stesse domande. Sai nulla delle tue vite passate? Penso che sia impossibile lavorare in questo campo per più di 40 anni e non cercare di scoprire qualcosa su se stessi. Durante i primi anni ricevete delle regressioni e avete passate da diversi ipnotisti. Ero curiosa, come tutti gli altri. Scoprì in questo modo ciò che non volevo che sperimentassero i miei clienti. C'erano molti dettagli riguardo alle loro tecniche che mi lasciarono a disagio, dispiaciuta, disturbata, irritata. Non sempre era un'esperienza piacevole. Ottenevo informazioni, ma le sedute non erano sempre condotte in modo professionale. Realizzai che stavano solo facendo ciò che era stato insegnato e non avevano mai messo in discussione perché lo facessero in quel modo. Tuttavia, io mi facevo sempre molte domande. Se ero a disagio durante o dopo una seduta, cercavo di capire il perché. Poi con gli anni, mentre sviluppavo la mia tecnica, creavo protezione così che nessuno dei miei clienti dovessero sperimentare le stesse sensazioni spiacevoli. Questa era un'altra ragione per cui raccomando sempre ai miei studenti di sperimentare la regressione alle loro vite passate per imparare come gestire i propri clienti. Come si fa a praticare qualcosa che non si è mai sperimentato? Durante i primi anni scoprì almeno otto delle vite passate. Furono importanti perché mi permissero di scoprire le mie relazioni con i membri della mia famiglia e perché abbiamo dovuto tornare tutti assieme ancora una volta. Ho anche scoperto perché sto facendo il lavoro che sto facendo. Questo fu molto importante per me. Non ho più bisogno di ricercare le vite passate perché penso di aver scoperto tutto ciò che avevo bisogno di sapere. È un mezzo utile, ma è tutto qua, un mezzo. Quando inizi ad evolvere e conosci te stesso non hai più bisogno di continuare a tornare al passato. Per alcune persone lo si fa più come una forma di intrattenimento che per terapia. A quel punto non serve a molto e possono diventare tossici delle vite passate alla ricerca di una nuova storia per soddisfare la curiosità. Questo riduce l'intero valore della terapia di regressione alle vite passate finché la persona non si trova a suo agio nella vita attuale. Le memorie passate sono informazioni ottime e di valore, ma bisogna metterle a buon uso nel corpo attuale, specialmente le relazioni familiare. Dobbiamo unirle allo stesso modo in cui abbiamo connesso i ricordi della nostra infanzia e di altre esperienze. Nel bene e nel male sono la storia della nostra vita e devono essere gestite e riconciliate. Le altre vite sono solo memorie estese e dovrebbero essere incorporate nella nostra vita presente. Questo aiuta l'individuo a creare una personalità sana e ben sviluppata. Per tornare alla nostra storia ho scoperto il mio scopo, la domanda eterna in questa vita. Quando ne sono venuta a conoscenza non sapevo che il resto della mia vita sarebbe stata dedicata ad aiutare la gente attraverso l'esplorazione del loro passato. Adoravo questo lavoro e avevo appena iniziato a scrivere il mio primo libro Gesù e gli Esseni, ma non c'era modo che potessi predire quanto sarebbe diventato vasto il mio lavoro. Quando mi sottoposi a questa regressione a casa di un amico non avevo alcuna idea di cosa sarebbe successo. Sono regredita ai giorni del dormo in biblioteca in Alessandria, ad Egitto. Per tutta la vita sono stata affascinata dai libri. Ero in grado di leggere prima ancora di andare a scuola e la grammatica mi era facile e spontanea. Durante la depressione ero ancora una bambina, quindi c'erano pochi soldi. Io e mia sorella non abbiamo goduto di alcun lusso. C'erano molte cose usate che ci avevano passato e vestiti acquisiti dai negozi dell'usato. In quei giorni bisognava arrangiarsi con ciò che c'era. Se costava denaro, potevamo dimenticarcelo. Non l'avevamo ricevuto, eccetto a Natale, quando c'era qualche giocatolo. Ecco perché ero così entusiasta in prima elementare quando qualcuno venne in classe e ci parlò dell'enorme biblioteca non lontano dalla nostra scuola in San Luis. Ci stavano incoraggiando a registrarci e ci diedero i documenti da portare a casa e firmare. Avevo già divorato tutti i libri disponibili in classe e la mia fame era arrivata al limite quando mi dissero che potevo andare in biblioteca dove centinaia di libri erano a disposizione. La parte assolutamente migliore è che erano gratis. Non potevo credere alle mie orecchie. Gratis. Corsi fino a casa col foglio in mano per mostrarlo a mia madre. Il mio entusiasmo deve essere stato contagioso quando mi ho mostrato il documento per ricevere una carta d'accesso e leggere qualsiasi libro che volessi gratuitamente. In poche parole mia madre ottene quella carta d'accesso e ogni altro giorno prendeva la macchina per portarmi a qualche isolato di distanza dove era quella gigantesca biblioteca che mi dava accesso libero ai libri. Ricordo che quando camminavo tra le fila dei libri mi sentivo in paradiso perché sapevo che non c'era limite a quanto potessi leggere. Successivamente quando potevo andare da sola ci passavo delle ore e tornavo sempre con le braccia piene di libri. Non ero mai senza libri e passavo ore immersa nel meraviglioso mondo dell'immaginazione che presentavano i libri. Alle superiori se non ero a lezione andavo nella biblioteca scolastica e risucchiavo le enciclopedie. Durante quello stesso periodo avevo sviluppato un'altra strana abitudine. Nel tempo libero passavo le ore copiando tutte le parole nel dizionario. Ogni volta lasciavo il segno nel dizionario dove mi ero fermata la prima volta. Ogni volta lasciavo il segno e continuavo il giorno dopo. Copiavo una parola dopo l'altra nel mio quaderno. Potrei dire che questo proveniva dal mio amore per i libri ma ho scoperto più tardi attraverso le mie regressioni a vite passate che in una vita passata ero un monaco in un monastero dove il mio lavoro era di copiare i manoscritti e testi a mano. Era una buona abitudine perché inculcò l'uso di parole e linguaggio nella mia psiche. Leggevo qualsiasi cosa su cui potevo mettere le mani e questo amore dei libri e il desiderio di imparare continuo per tutta la vita. Perfino oggi quando scrivo uno dei miei libri faccio moltissima ricerca. Dopo la fine delle sedute quando il vero lavoro di scrivere il libro ha iniziato passo delle ore a volte giorni interi in biblioteca a raccogliere i fatti. Ricercare per ore per me è il paradiso e alla fine me ne esco con il tesoro di un fatto inclusivo. Quando scrisi i miei libri su Nostradamus conversazioni con Nostradamus lessi tutti i libri che fossero mai stati scritti sul grande maestro. Alcuni di loro erano fuori pubblicazione l'unica copia era disponibile dalla Library of Congress la biblioteca del congresso che riuscì a ricevere a prestito attraverso l'Università dell'Arkansas. Quando scrisi i miei libri su Gesù Gesù e gli Esseni e camminarono con Gesù lessi tutti i libri mai scritti sui rotoli del Mar Morto. Quando scrisi il mio libro sulle origini della razza indiana d'America Legend of the Star Crush la leggenda di un incidente stellare passai tre anni a fare ricerca su tutte le vecchie leggende indiane e storie che potevo trovare. Tutta questa ricerca ha avuto i suoi frutti perché quando offro dei seminari ho tutte queste nozioni nella mia mente e posso parlare con confidenza. Il mio primo editore una volta mi disse la ricerca è molto importante ed è ovvio che tu ne abbia fatta in abbondanza. Sarebbe stato altrettanto ovvio se tu non ne avessi fatto. Penso che sia una vergogna che adesso i giovani non sappiano come fare ricerca. Passano un po' di tempo su internet raccogliendo qualche fatto senza conoscere la gloria e meraviglia di spulciare pile di libri in biblioteca e trovare qualche testo dimenticato o perduto. Ecco perché mi definisco una reporter, investigatrice, ricercatrice di conoscenza perduta. Allora io mi fermerei qui e domani partiamo da qui con questo capitolo. Grazie mille. Ciao a domani.